Lo stupefacente viaggiava sulla A14 in due vetture che proprio per il loro procedere appaiate hanno insospettito i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara. Le due vetture si sono incontrate nei pressi del casello autostradale di Val di Sangro, una proveniente da sud e l'altra in attesa per poi proseguire insieme. Una volta fermate dalle fiamme gialle e scortate verso la caserma di Lanciano, le unità cinofile hanno scoperto la droga, 680 grammi di cocaina e 520 di eroina, nascosta all'interno del bagagliaio appositamente modificato di una Audi A3, posta poi sotto sequestro assieme a telefoni cellulari e materiale per il confezionamento delle dosi. Queste avrebbero fruttato sul mercato dello spaccio lungo la costa adriatica oltre 150.000 euro. Il Corriere della Droga, un 28enne del Foggiano, è stato arrestato mentre le altre due persone a bordo delle vetture fermate sono state denunciate a piede libero.